E' una festa che celebra a tutto tondo il territorio del Tanagro, l'undicesima edizione di Bianco Tanagro, il festival dedicato al carciofo bianco tipico del Salernitano, che dopo due anni di stop dettati dalla pandemia è stato nuovamente celebrato e valorizzato da contadini e produttori, i quali ne curano direttamente l'offerta gastronomica dell'evento. Dopo quattro giorni di degustazioni con una quarantina di piatti che rientrano nel menu di Bianco Tanagro, accompagnati dai mercatini dei tipici artigianali curati da Gusto Italia, cala oggi il sipario sul festival del carciofo bianco ad Auletta con grande soddisfazione da parte degli organizzatori con in primis Giuseppe Lupo, presidente della Proloco di Aulette dell'Associazione Italia Eventi. Come ogni anno, Auletta con Bianco Tanagro ha celebrato una vera e propria festa in suo onore, che ne celebra la storia, le tradizioni e il gusto attraverso show cooking con chef adette ai lavori, degustazioni e vere e proprie sedute gastronomiche. Questo prodotto, che rappresenta il territorio, che abbraccia i borghi di Auletta, Caggiano, Pertuse e Salvitelle, conserva una forte qualità rappresentando a pieno titolo il vasto patrimonio di biodiversità dell'Italia. Dopo aver consegnato il premio carciofo d'oro al giornalista di Linea Verde, Giuseppe Calabrese Peppone, abbiamo consegnato i premi, diciamo, carciofo bianco, settimo premio alle attività, alle aziende locali che si sono distinte in questi anni sul territorio, perché dicevo prima che è giusto che noi diamo un riconoscimento a tutte queste aziende, comunque che spaziano in diversi settori, anche quello dell'agricoltura, ma in altri settori anche, diciamo, delle proprie attività imprenditoriali. E poi abbiamo premiato anche cinque prologo della Campania, come facciamo sempre, cinque prologo che si sono distinte, una per provincia. E dicevo prima che è giusto perché noi, questo evento, questo festival, lo facciamo per valorizzare in una delle recenze tipiche del nostro territorio, che è appunto il carciofo bianco del Tanagro. Ed è giusto che in questo progetto che noi stiamo facendo, di valorizzazione di un prodotto, rientrino anche tutte queste aziende territoriali che, ahimè, hanno avuto il coraggio, hanno il coraggio di rimanere qui nel territorio e quindi di creare economia nel nostro territorio, come noi stiamo facendo con questo festival, cercando di creare economia per le aziende agricole locali che hanno il coraggio di continuare ad investire in questo territorio. Diciamo che sono stati fino adesso due giorni, anzi tre giorni, veramente, dove è arrivata tantissima gente. Purtroppo, ahimè, oggi un po' il tempo ci sta danneggiando, però che facciamo, che dobbiamo fare? Andiamo avanti, l'importante è che stiamo continuando con quelle che sono le nostre attività che abbiamo messi in piedi. Tanta gente che è arrivata è rimasta contenta, ci ha fatto i complimenti per come la manifestazione è stata organizzata, per quelli che sono i piatti. Il bilancio è più che positivo, ma non poteva essere altrimenti anche per la grande pubblicità che noi facciamo in occasione di questa manifestazione, ma soprattutto perché si viene qui perché si vuole mangiare i piatti con il nostro principe, il nostro guerriero, dal cuore terreno appunto del calciofo bianco del Tanagro. Continuitemi di ringraziare tutti i soci della Proloco di Auletta che si sono adoperati e che stanno lavorando in questi giorni, ma anche in precedenza insieme a me, tutte le aziende produttori locali del calciofo bianco, ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco, il comandante della stazione Carabinia di Auletta, la polizia municipale e tutte le associazioni di volontariato che stanno collaborando con noi in questi giorni.